Sono sicuro che almeno una volta nella vita è capitato a ognuno di voi, ovvero di avere un filtro a vita, magari quelli classici, quelli clear, che sono quelli protettivi e quindi lasciamo sempre fissi, poi arriva il momento di dire ok adesso devo mettere un polarizzatore oppure ND e ahi noi non vuole saperne di farsi svitare. Allora esistono vari metodi, quello che vi consiglio io, quello che conosco, è di prendere un panno e spugna, metterlo su una superficie piana, appoggiare l'ottica e spingendo in giù e ruotando in senso anti-orario finché non sentiamo eccolo che ha ceduto e sì ci siamo riusciti. Certo che se siamo magari al tramonto, all'alba, quando non ci si vede bene, quando non abbiamo un piano d'appoggio, quando stiamo indossando i guanti, eh sì potrebbe essere una bella scocciatura. In queste situazioni un sistema magnetico, un sistema versatile e modulare, qualcosa di assolutamente innovativo potrebbe fare la differenza. So che siete curiosi ma come sempre andiamo con calma e con ordine tirando fuori questo cosino qui dalla sua scatola. Ecco qui la confezione di vendita di questi filtri magnetici versateli i primi al mondo. C'è la pellicolina che rende belli lucidi, andiamo a intaccare e a vedere com'è l'interno. Ecco, effetto ventosa, voilà, ok. Bello trovare questo QR code, è bello trovare l'inglese. Eseguite la scansione codice QR per istruzioni di installazione prima di iniziare a utilizzare il prodotto. Carino, questa è anche una bustina, vediamo cosa c'è all'interno. C'è un adessivo, esistono alcune spiegazioni. Impara le basi, cosa sono gli ISO, questo lo sappiamo. Garanzia a vita, che questo effettivamente non è poco. Pezzuola per la pulizia e la guida tutti i filtri effettivamente della Freewell. Ma la parte più interessante la troviamo in questa bella custodia rigida. Andiamo a togliere tutto qui di fianco. Apriamo. E wow, sì. Effettivamente un bel malloppo. Vedete, abbiamo vari vani su cui andare, penso anche a suddividere i vari filtri. C'è un filtro in fondo, questo è il filtro mixto su Sivano D, poi vediamo dopo com'è. E qui tutti insieme, io ho scelto la filettatura da 77, quello che dovrebbe essere un tappo, ma è solo un tappo o è anche qualcosa altro. Potrebbe essere solo un tappo, 6-9 stop, 2-5 stop, anche la parte filtro polarizzatore e un'altra parte che dovrebbe essere quella da evitare, ma che con un altro filtro base, messo però all'interno. Niente, penso effettivamente che vado a scansionare il QR code per capire bene come funziona il tutto. E giustamente ve lo spiego. Eh sì, guardare le istruzioni è importante per capire quanto sia versatile questo sistema. Abbiamo ben 10 funzioni. Prima andarle a vedere, sì, bisogna fissare il portafiltri magnetico, attenzione a questa letterina e quella freccia. E fate attenzione che si comunque sporge all'esterno, quindi una volta montato questo portafiltri, il paraluce non sarà più utilizzabile. Ma vi dicevo, 10 funzioni davvero versatili, non ci credete, contate con me. Innanzitutto, portafiltri, questa è la numero 1. Dopodiché prendo il filtro da 1 stop e lo fisso all'interno e questa è la seconda funzione. Questo filtro con grande rapidità può essere sostituito con un filtro sempre da 1 stop, ma anche con l'effetto mist, quindi un'atmosfera molto bella nei video. Ed è il numero 3. Andiamo avanti. Rimettiamo il VND base e andiamo ad aggiungere il filtro, quello da 2-5 stop. Qui è importante allineare la lettera A con il simboletto, ed ecco che abbiamo 2-5 stop. E quindi siamo alla quarta funzione. Andiamo avanti. Prendiamo il filtro su cui c'è scritto 6-9, sempre andando a allineare le letterine con la A. Ecco che abbiamo il filtro, guardate qui, da 6 fino a 9 stop. E quindi è la quinta funzione. Ma adesso, senza buttare giù nulla, andiamo a riprendere il filtro da uno stop, ma con anche la funzione mist, al centro e ripetiamo la coppiata. Abbiamo quindi il sistema da 2-5 stop. Ed è la sesta funzione. Dopodiché andiamo a riprendere il filtro, quello da 6-9 stop, lo riallineiamo e abbiamo con il mist da 6 a 9 stop. E quindi la settima funzione. Ma non basta. Togliamo il filtro interno, prendiamo quello da 2-5 stop e lo rovesciamo sul lato in cui c'è scritto CPL. Lo montiamo dove vogliamo ed è un polarizzatore classico che può essere ruotato, come tutti i polarizzatori circolari, di 360 radii. E quindi ottava funzione. Andiamo a prendere il filtro 6-9, lo ruotiamo sul lato ND32 CPL e sarà un filtro polarizzatore e anche ND32 che ruota a 360 radii. Non ha una funzione, infine togliamo tutti i filtri e sì, abbiamo anche la decima funzione che è quella che fa semplicemente da tappo 10 funzioni in una incredibile ma vero. Per farvi poi capire meglio il funzionamento dei vari filtri polarizzatori e del loro assorbimento di luce, prendiamo un attimo un faretto. Ripresa scura per farvi capire cosa succede con questi filtri. C'è da dire che tutti e quattro filtri sono in realtà dei filtri polarizzatori. E che succede? Quando noi incrociamo dei filtri polarizzatori, come incrociare il flusso per i Ghostbusters, succede un bel pastrocchio con la luce. No, nessun pastrocchio, semplicemente la luce se viene polarizzata due volte ne passa sempre di meno. Quindi questi sono filtri polarizzatori fissi perché rimangono bloccati e questi sono ovviamente ruotando, cambia l'assorbimento. Il filtro VND base e il filtro mist, nebbia e VND base assorbono uno stop. Lo stesso il filtro polarizzatore da 2-5 stop equivale sempre a uno stop d'assorbimento da solo. Mentre quello da 6-9 stop vedete normalmente assorbe 5 stop da solo. Ma per l'appunto quando li andiamo ad abbinare e ve lo faccio vedere allineando le letterine, qui piccola parentesi, unico appunto da fare per queste letterine, qui Freewell se mi facevi un riferimento tattile per allinearli lo rendevi più facile. Però qui dovreste vedere l'effetto, questo è l'assorbimento di 6 stop, ora ruoto l'assorbimento di 9 stop. Vedete che a 9 stop quasi non si vedono più i led, ma se torno indietro invece i led ci sono. Questo ci permette di regolare in maniera molto precisa, in maniera poi graduale quanta luce vogliamo che entri all'interno per regolare di fino alla nostra esposizione. Ma a questo punto giustamente prova sul campo. Eccomi qui al ponte del diavolo, giornata di sole pieno, questo è importante, in compagnia della mia Nikon D750 con suo montato il 24-70 alla minima focale 24 mm e a tutta apertura 2.8. In una giornata di sole come questo se voglio ottenere un cinquantesimo di secondo, che è l'ideale quando si lavora a 25 fotogrammi al secondo, con tutto aperto 2.8 anche a ISO 100 in realtà sono 4-5 stop sovraesposto. Anzi faccio partire la registrazione così potete vederlo con i vostri occhi. Adesso vado ad aggiungere il filtro mist che tra l'altro mi toglie uno stop. Pronti, partenza, via. Vedete, è subito inserito e vedete subito l'effetto. Ma ok, siamo ancora troppo sovraesposti. Vado a prendere adesso il filtro da 2 a 5 stop, variabile, sempre allineando le letterine. Ok, adesso comodamente passo dietro e vado a ruotare e guardate anche voi come l'effetto cambia. Ecco, arrivati a 5 stop, sì ci siamo. L'effetto è quello che voglio. Ma in realtà vorrei avere anche un filtro polarizzatore senza effetto misto. Via 1. Via 2. Aspetto il filtro sul lato ND32 quindi 5 stop e polarizzatore ed ecco qui lo vedete e andando a ruotare cambio la polarizzazione della luce. Peccato non ci sono delle nuvolette altrimenti l'effetto sul cielo sarebbe più evidente. Vedete con quanta facilità e rapidità. E adesso vi mostro un paio di prese così giusto per darvi l'idea e poi torniamo in studio per le pacelline. E adesso vi mostro un paio di prese così giusto per darvi l'idea e poi torniamo in studio per l'idea e poi torniamo in studio per l'idea. Eccoci ragazzi, spero vi sia piaciuto il montaggio così molto di atmosfera come io mi sono innamorato dell'atmosfera che questo filtro mist permette di ottenere questo effetto di nebbia foschia che rende tutto molto emozionante, molto di impatto emotivo. Ma andiamo in dettaglio a dire cos'è che mi piace di questo sistema versatile della Freewell. Innanzitutto prendo gli appunti la qualità costruttiva. Questi filtri sono in cristallo ottico giustamente ma multistrato a ben 18 strati. Tutti lavorati a mano per avere il miglior abbinamento possibile. Cristallo che è antiriflesso, antigraffio, antistatico, quindi la polvere non ci si ferma sopra. Oleofobico, se si dovessero sporcare si puliscono con estrema facilità. Il tutto è estremamente pratico. Siamo di notte al buio, all'alba, al tramonto, stiamo indossando dei guanti. Il sistema magnetico permette di mettere e togliere con estrema praticità, facilità e rapidità. Quanti accenti sono andato a mettere? È incredibile il fatto di avere 10 funzioni e ve lo mostrato sopra in un unico sistema. Sistema pensato totalmente alla praticità anche grazie alla sua custodia soffietto in cui andare a mettere e togliere è estremamente facile. E ragazzi, il tappo magnetico volendo potrebbe essere anche l'undicesima funzione. Vi mostro questa foto realizzata utilizzando il tappo. Ma andiamo avanti dicendo che c'è anche la garanzia e a vita, ultima cosa importante, il prezzo. Allora, c'è da dirlo, se noi andiamo a comprare queste 10 funzioni, quindi i filtri sicuramente, il filtro mist, il filtro polarizzatore, i filtri, appunto, ND, dalle vari assorbimenti di luce, ci costerebbe un botto. Freewell dice, comprandosi normalmente, sarebbero filtri che costerebbero 800 euro. Loro mettono il sistema in vendita in crowdfunding su Indiegogo, vi lascio il link qui sotto in descrizione, e funziona, come sempre in crowdfunding, chi prima arriva meno spende, ovvero i primi mille set venduti costano 300 dollari. Il secondo lotto di 2000 filtri costano 350, dopodiché il prezzo pieno sarà di 400 dollari. Quindi, ragazzi, se vi interessa, affrettatevi, il link qui sotto in descrizione. Invece, cos'è che non mi è piaciuto? Due dettagli. Il primo, poi, che è una cosa che ho segnalato, la Freewell, che ci ha detto proprio, ragazzi, se trovate delle criticità, segnalate il modo che noi siamo in crowdfunding, possiamo intervenire, quindi i mari interverranno. Secondo me, il punto in cui si va ad allineare i filtri, quindi la famosa letterina A, non è così facile individuarlo. Sarebbe meglio metterci una sporgenza, in modo che al tatto uno capisce subito dove andare ad allineare i due filtri. Seconda cosa, è una cosa evidente, l'ho detto durante la fase di prova, ma è bene ricordarlo, con questi non si può utilizzare il paraluce. A questo punto, ma perché Freewell non vai a realizzare il tuo paraluce, sempre magnetico, da andare quindi a inserire nel tuo sistema versatile? Con questo, ragazzi, concludo questa lunga recensione, dettagliata come piace a me, vi saluto ciao a tutti e al prossimo video!